Le promesse fatte in campagna elettorale sono precisi impegni con i cittadini e non devono rimanere parole al vento. I governatori appena eletti dovranno tenere fede alle promesse fatte. Sette hanno dichiarato di essere contrari ai piani nucleari del governo. Sei hanno dichiarato che la propria regione non ospiterà una centrale nucleare. Questi sono precisi impegni, presi per la salute dei cittadini e per preservare dal rischio nucleare il loro territorio. Grimpis continuerà a vigilare perché i governatori tengano fede a queste promesse. I governatori dovranno continuare a dire no al nucleare opponendosi ai piani nucleari del governo e a qualsiasi tentativo di portare una centrale nucleare nei propri territori e dicano no al nucleare facendo valere quelle che sono le proprie competenze come regioni, competenze che hanno in materia di energia e in materia nucleare. Quindi forza regioni contro il nucleare.